ora si registrerà la conferenza allora iniziamo col geobreak di oggi tanto poi se nel frattempo punto qualcuno si dovesse aggiungere ci sarà comunque poi a disposizione come come ogni volta la registrazione quindi potrà seguire e ok direi che si sente bene tutto mi sono arrivati tutti i feedback quindi possiamo partire oggi torniamo invece diciamo a parlare sempre di di QGIS quindi torniamo tra virgolette al settore dei sistemi formativi territoriali e in particolar modo oggi vedremo un po' l'interazione fra QGIS e un'applicazione mobile che sicuramente molti di voi conosceranno già perché pur essendo un progetto molto più giovane rispetto a QGIS sta sicuramente diventando una delle applicazioni più più diffuse più più importanti diciamo in ambito rilievo ovvero QFILD chi segue l'attività di GTER diciamo un po' in generale non solo strettamente legata ai job break probabilmente saprà che questo è un argomento che abbiamo già affrontato in più in più ambiti diciamo in più occasioni principalmente forse perché è stata un po' una novità anche per noi infatti abbiamo iniziato noi stessi ad approcciarci a QGIS a QFILD oramai da un annetto e qualcosa e diciamo che è stata non dico una scoperta perché ovviamente lo conoscevamo già però sicuramente è stato uno strumento che ci ha ci ha dato diciamo grandi soddisfazioni e nel job break di oggi vedremo anche un po' il perché quello che di cui parleremo eh durante appunto l'appuntamento di oggi sarà un po' intanto il caso applicativo proprio da cui siamo partiti quindi un po' la causa scatenante che eh ci ha fatto appunto eh entrare maggiormente in contatto con con QFILD parleremo poi dell'integrazione quindi ehm diciamo della della parte più propriamente di di rilievo eh e come si combina ehm scusate un attimo scusate ehm quindi e come si combina invece con l'ambiente GIS eh vedremo poi appunto l'interazione proprio fra QGIS e QFILD e vabbè poi un po' di considerazioni finali e ovviamente poi come come da format GeoBreak spazio a alla discussione a domande curiosità e insomma ai vostri interventi partiamo subito dal nostro caso applicativo perché ci siamo approcciati a QFILD perché di fatto c'è stato chiesto di rilevare la rete acquedottistica di alcuni comuni eh della riviera Ligure diciamo che ehm ovviamente quando si approccia a un rilievo di questo tipo quindi una rete di sottoservizi eh ovviamente ci sono degli standard da rispettare quindi delle normative che impongono non solo eh parametri per il rilievo come precisioni e via dicendo ma anche tutta una serie di eh diciamo ehm parametri su l'informazione alfanumerica da associare appunto agli elementi rilevati in particolar modo ci è stato richiesto di rilevare sia i tombini quindi chiusini diciamo sotto forma di elemento puntuale ma anche la condotta quindi l'elemento lineare che dai punti diciamo parte i vincoli erano quelli quindi di dover appunto rispettare gli standard imposti che eh in particolar modo dal punto di vista alfanumerico impongono un grandissimo numero di informazioni da associare sia all'elemento puntuale quindi al chiusino sia all'elemento lineare ovvero la condotta inoltre altra altra diciamo complicanza era ovviamente la necessità di ehm ispezionare il tombino per raccogliere tutta una serie di informazioni più strettamente legate proprio a ciò che sta dentro al tombino a sto punto diciamo che ci siamo un po' ritrovati a ehm a cercare di capire come poter eh rendere tutto tutto questo lavoro il più semplice possibile e soprattutto evitare il più possibile l'introduzione di errori in fase di rilievo infatti diciamo che l'approccio classico sarebbe stato quello magari di raccogliere le informazioni alfanumeriche separatamente su ad esempio un quaderno di campagna cosa che e quindi di associarle successivamente all'elemento invece geometrico rilevato questo ovviamente ehm avrebbe introdotto una quantità di errori ehm insomma difficilmente controllabile gestibile quindi ci siamo iniziati a chiedere se tutto questo lavoro si sarebbe potuto fare direttamente sul campo la domanda che ci siamo alla domanda che ci siamo posti ci siamo anche dati eh una risposta in qualche modo intanto per quanto riguarda la parte appunto di rilievo della posizione dei chiusini ehm abbiamo optato appunto per un rilievo GNSS modalità NRTK che ci consentiva quindi di raggiungere precisioni eh adatte al tipo di rilievo e soprattutto che rispondevano alle esigenze della committenza e poi soprattutto ci permetteva di lavorare con una strumentazione piuttosto compatta e facilmente gestibile sul campo eh oltre al fatto che ehm velocizzava notevolmente la produttività diciamo del rilievo accorciando notevolmente i tempi un rilievo come come questo della rete acquedottistica sarebbe stato abbastanza diciamo impensabile ehm farlo diciamo con tecniche magari più più standard più classiche tipo banalmente una stazione totale quindi abbiamo optato sì per un rilievo GNSS ma il problema che ci si poneva a questo punto di fronte era il fatto che spesso anzi oserei dire quasi sempre le le applicazioni diciamo di gestione del del posizionamento del ricevitore consentono di solito di inserire un numero molto limitato di informazioni associate al punto tendenzialmente magari un codice univoco o qualcosa di simile come vi dicevo noi avevamo bisogno di inserire informazioni per mi sembra alla fine fossero quasi un centinaio di campi tra punti e e linee a questo punto ci siamo trovati davanti appunto a due a possibili approcci la soluzione uno che era quella quindi di effettuare il il rilievo associando ad ogni punto un codice univoco annotare in qualche modo separatamente le informazioni alfanumeriche e poi in fase di post processamento associare quindi combinare le due cose questo ovviamente come già vi dicevo anche prima sarebbe stata sicuramente una soluzione percorribile ma che di fatto non si non si adattava poi completamente alle nostre esigenze proprio perché poco pratica eh decisamente più dispendiosa in termini di tempo soprattutto in fase di post processamento e ehm sicuramente ma su più soggetta ad errori abbiamo quindi ipotizzato una seconda soluzione che di fatto consisteva nel fare tutto questo sul campo quindi non solo registrare la posizione del punto ma già sul campo andare a inserire tutte le informazioni alfanumeriche da associare sia all'elemento puntuale che all'elemento eh lineare questa cosa ci siamo chiesti si potrà fare si potrà fare assolutamente sì eh ovviamente utilizzando gli strumenti gli strumenti più più adatti ed è qua che di fatto abbiamo iniziato seriamente ad utilizzare Qfield e a mettere insieme diciamo un un sistema che in qualche modo ci permettesse appunto di andare di fatto a svolgere il il rilievo proprio nel senso più più ampio del termine quindi non solo il posizionamento ma anche la raccolta di tutte le informazioni direttamente sul campo e nel giro di pochi semplici step ritrovarcelo poi sul nostro progetto QGIS con tutte le caratteristiche eh proprie del del progetto QGIS e associati insomma impostate da dall'operatore quindi strumenti ovviamente Qfield eh Savasandir QGIS per quanto riguarda la configurazione del progetto da importare in Qfield e poi per tutta la parte di restituzione del rilievo per quanto riguarda il ricevitore GNSS abbiamo utilizzato poi un ricevitore eh ovviamente controllabile da dispositivo Android ehm ma appunto un ricevitore diverso diciamo da quello ovviamente integrato nel 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 device mobile il problema infatti l'ulteriore problema che ci si è presentato è il fatto che Qfield di default utilizza per appunto il posizionamento il il ricevitore GPS integrato nel nel proprio smartphone nel proprio device diciamo che con una serie di di tentativi abbiamo trovato un po' un workaround questa questa problematica e in ambiente Android siamo riusciti praticamente a utilizzare invece un ricevitore esterno semplicemente diciamo un po' ingannando il nostro il nostro device e quindi selezionando una un app di posizionamento fittizio per il calcolo della posizione del del posizionamento per il calcolo della posizione del punto questo quindi ci ha permesso di fatto di eh ottenere ehm appunto il risultato che un po' ehm speravamo di di riuscire ad ottenere ovvero quindi buone precisioni per quanto riguarda il posizionamento ma soprattutto appunto uno strumento come Qfield che di fatto ci permettesse di ehm avere direttamente sul campo tutta una serie di funzioni eh proprie di QGIS e quindi utili all'inserimento delle soprattutto della parte alfanumerica quindi di tutte le informazioni associate. Come che diciamo come dialogano QGIS e Qfield i due strumenti vabbè QGIS non praticamente oramai non non necessita neanche più di presentazioni immagino che molti di voi se non addirittura tutti oramai lo conoscano comunque è un applicativo appunto GIS desktop open source disponibile per vari sistemi operativi Qfield è un'applicazione mobile open source eh disponibile per Android ma dovrebbe essere in fase di insomma eh lavorazione anche la versione per iOS se non ricordo male eh come vi anticipavo è un progetto piuttosto giovane ma in continua crescita e qui soprattutto ha una comunità alle spalle molto attiva molto diciamo molto eh presente e eh è appunto un'applicazione versione mobile che ci permette di fatto che potremmo quasi un po' definire la versione mobile di QGIS come dialogano queste due questi due software diciamo tramite un plugin QGIS che si chiama appunto Qfield Sync che è sviluppato principalmente dalla stessa azienda che sviluppa Qfield e ehm che permette appunto di di fatto mettere in comunicazione i due software Qfield come vi dicevo supporta quindi la maggior parte delle capabilities di QGIS in particolar modo per quanto riguarda il formato dati supporta ovviamente il formato vettoriale in particolar modo eh shapefile, geopackage, tabelle postGIS, eh database spatialite, WFS e simili ehm per quanto riguarda il raster la quantità diciamo sì la quantità di formati supportati è un pochino più ridotta però diciamo che appunto supporta eh perfettamente formati come il geotiff, il jpeg 2000 e ovviamente i servizi WMS. Per quanto riguarda le proprietà del layer ovviamente supporta tutte le impostazioni che possiamo dare tramite QGIS come ad esempio simbologie ed etichette eh compreso appunto l'utilizzo di di svg per le simbologie supporta la creazione di form quindi di moduli per l'inserimento dei dati alfanumerici supporta buona parte dei widget quindi la diciamo la tipologia proprio la modalità con cui il dato può essere inserito all'interno della tabella supporta anche i vincoli e i valori di default che se possono sempre essere settati eh tramite le proprietà del layer e inoltre supporta appunto le relazioni una molti le opzioni di snap e eh la possibilità anche di eh stampare diciamo direttamente dal dal device mobile tramite appunto layout di stampa impostati su QGIS per quanto riguarda la proprietà diciamo simbologie etichette quando dico che eh QField supporta eh appunto questo tipo di proprietà intendo esattamente quello che vediamo nell'immagine per cui una insomma una rappresentazione ehm definita in QGIS in questo caso beh abbiamo una semplice eh un semplice stile categorizzato in funzione di una colonna viene esattamente riportato anche in QField quindi sia dal punto di vista diciamo geometrico ma anche lato albero dei layer abbiamo esattamente la stessa la stessa diciamo rappresentazione per quanto riguarda eh i form per l'inserimento dei dati questo è stata sicuramente una delle componenti più importanti per noi come vi dicevo appunto abbiamo una quantità enorme di dati da inserire questo che vedete nell'immagine proprio il form che abbiamo creato per il nostro caso applicativo stiamo veramente parlando mi sembra di un numero compreso fra i novanta e cento campi tra punti e linee e eh la possibilità appunto di creare dei form ci ha permesso di organizzare i nostri dati come vediamo anche dalla GIF animata in schede quindi informazioni strettamente legati all'elemento puntuale e poi quattro schede in questo caso da dedicare ai campi per gli elementi lineari che appunto dal punto rilevato sul campo partono nelle varie direzioni quindi questo form così come organizzato come abbiamo visto nella slide precedente su QGIS ce lo ritroviamo direttamente in QField abbiamo esattamente la stessa identica suddivisione in schede come se come si vede adesso appunto nella nella GIF quindi ci dà la possibilità ci ha dato la possibilità di organizzare i nostri campi in schede ma anche in gruppi e sottogruppi ovviamente si possono creare anche form molto più complessi sono interamente supportati da QField quindi tutto ciò che fate lato QGIS ve lo ritroverete sul vostro applicativo sulla vostra diciamo sul vostro device mobile ci ha permesso quindi di inserire i dati in modo molto più semplice molto più rapido limitando notevolmente l'inserimento di introduzione di errori e tramite dal lato QField esattamente come in QGIS sono diciamo sono a disposizione diciamo è utilizzabile sia in fase di editing ma anche semplicemente in fase di consultazione interrogando il punto dai form passiamo direttamente ad un altro elemento fondamentale in questo tipo di attività che è il supporto da parte di QField di buona parte dei widget di QGIS i widget per chi ovviamente utilizza QGIS sono diciamo diciamo che possiamo definirli come la modalità di inserimento del dato all'interno della tabella attributi eh ne esistono diversi QField attualmente ne supporta solo alcuni ma appunto eh lo sviluppo è continuo e di versione in versione tendenzialmente sono sempre di più i widget supportati ma diciamo che allo stato attuale quelli fondamentali quelli più importanti sono ovviamente già supportati in particolar modo vabbè la modifica del testo quindi la possibilità di digitare da tastiera eh il testo da inserire il widget checkbox quindi la possibilità di creare appunto una casella di controllo da spuntare o eh o meno eh sono supportati widget come il mappa valore la relazione valore per diciamo la l'utilizzo diciamo di di decodifiche che appunto nel caso nostro riguardava praticamente la maggior parte dei dei campi quindi la possibilità di avere di fatto un menu a tendina dal quale poter scegliere direttamente il valore da inserire esattamente come si vede ora nella GIF altri widget sono quello nascosto quindi possibilità di nascondere un campo il widget data che come si vedeva prima crea questo diciamo ehm mostra questo pop up il classico pop up del calendario da cui scegliere la data il widget riferimento relazione in caso appunto di relazioni uno a molti e poi il widget allegato che in QGIS è quello che diciamo ci permette di caricare eh file esterni in QField il widget allegato si traduce diciamo in un collegamento diretto alla alla fotocamera quindi la possibilità di scattare foto direttamente dal dal nostro device per quanto riguarda le relazioni uno a n ovviamente come già vi anticipavo sono assolutamente supportate nel nostro caso le abbiamo utilizzate ad esempio per l'inserimento di specifiche tecniche legate a determinate tipologie di pozzetto e ehm anche in questo caso sono disponibili sia in consultazione quindi di fatto interrogando il punto o anche in fase di editing quindi nel momento in cui andate a registrare un nuovo punto potete compilare direttamente anche la tabella eh relativa alla relazione questo diciamo è eh appunto quello che vi ritrovate su QField quindi se eh su QGIS appunto la relazione ehm la trovate appunto nel form per l'inserimento dei dati la stessa cosa avviene in QField quindi avete tutta la la parte dedicata appunto alle tabelle di relazione uno a molti semplicemente così come in QGIS si aggiunge una nuova relazione e si compila la tabella corrispondente quindi questi diciamo erano un po' tutti gli elementi o quantomeno gli elementi principali eh diciamo impostabili definiti tramite QGIS che poi l'operatore ritrova direttamente nel suo progetto QField però appunto come facciamo il passaggio da QGIS a QField semplice esiste un plugin eh installabile diciamo ehm su QGIS tramite il gestore di plugin che si chiama appunto QField Sync e che ci permette proprio di convertire il nostro progetto QGIS così come è stato diciamo definito impostato con tutte le caratteristiche del caso lo converte di fatto in una sorta di progetto QField da importare poi nel device mobile eh dal punto di vista della configurazione il plugin ci permette appunto di definire le operazioni da fare per ogni singolo layer che abbiamo nel progetto principalmente quello che si può fare è creare una copia del layer oppure con l'opzione nessuna azione di fatto layer QGIS viene mantenuto inalterato quindi questo di fatto viene è valido soltanto per layer tipo servizi web piuttosto che tabelle post GIS si può impostare ehm la modalità di editing offline che è quella che poi utilizziamo ad esempio noi eh per questo tipo di di rilievo che ci per che di fatto crea una sorta di non una sorta crea un vero e proprio geopackage ehm con all'interno una tabella diciamo per ogni per ogni layer eh presente nel nostro progetto QGIS questa modalità di fatto registra ovviamente eh le le modifiche che vengono apportate sul campo e poi successivamente vediamo anche rapidamente come riportarle invece ad esempio eh sul nostro sul nostro progetto poi vabbè la modalità rimuove ovviamente fa sì che uno specifico layer del vostro progetto QGIS non venga importato nel progetto QField una volta definite diciamo tutte le le varie impostazioni quindi di fatto una volta che diciamo a QField ehm che cosa fare di ogni nostro singolo layer si passa appunto alla creazione del progetto QField abbiamo appunto lo strumento pacchetto per QField che ci permette appunto di convertire il nostro progetto viene di fatto salvata una cartella con un progetto QField e nel nostro caso il geopackage con tutti i dati questa cartella non si deve fare altro che copiarla insomma riprenderla dal nostro computer e andarla a incollare nella memoria del nostro del nostro telefono del nostro smartphone tablet e via dicendo una volta che abbiamo quindi importato ehm il il progetto nel nel nostro device possiamo passare alla ehm registrazione quindi al rilievo vero e proprio e in particolare alla registrazione dei punti e quindi poi all'inserimento anche di tutte le varie informazioni appunto nel nel form di inserimento dati con QField ehm ovviamente possiamo io parlo sempre di punti perché è appunto il caso applicativo ehm da cui siamo partiti quindi il tipo di attività che abbiamo dovuto che stiamo ancora adesso svolgendo noi però ovviamente QField supporta anche layer di tipo lineare e poligonale vi permette di fare editing anche ovviamente anche ovviamente con queste tipologie di tipologie geometriche però nel nostro caso dovevamo di fatto rilevare i chiusini quindi ehm i tombini che abbiamo rappresentato sotto forma di elemento puntuale e ehm con QField abbiamo principalmente due modalità di di inserimento dei punti la prima che è quella appunto tramite gps quindi tramite ricevitore esterno per la quale dobbiamo appunto abilitare il posizionamento da questo dal punto di vista dell'editing ehm tenete conto che QField funziona esattamente come QGIS quindi anche in questo caso dovremo per prima cosa selezionare il layer su cui eh vogliamo fare editing quindi su cui verranno inseriti i nostri punti e attivare la modalità di modifica esattamente con la stessa matitina che ci ritroviamo in QGIS una volta abilitata la modalità di modifica il layer diventa appunto modificabile esattamente come in QGIS dobbiamo quindi andare a attivare il posizionamento quindi diciamo come vedete qua nell'immagine e assolutamente importante è attivare eh lo strumento mantieni centrato questo perché come avete visto anche nella GIF di fatto eh QField rileva la posizione tramite ricevitore ma senza appunto la 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 funzione mantieni centrato il mirino che poi è quella crocetta in corrispondenza del quale viene poi disegnato il punto rimane diciamo scollegato dalla posizione rilevata quindi con questa funzione invece il il mirino e la posizione registrata dal vostro ricevitore saranno appunto sempre ehm insomma coerenti tasto verde appunto per aggiungere il punto e una volta cliccato il tasto verde vi si aprirà il vostro form la vostra tabella attributi con tutte le informazioni da da inserire seconda modalità è quella invece manuale quindi senza eh senza ricevitore semplicemente anche in questo caso abilitando prima la modifica del al layer appunto su cui vogliamo fare editing semplicemente andando a spostare eh la mappa tenete eh conto io i primi tempi non non mi ci trovavo molto perché mi veniva quasi più spontaneo spostare il mirino invece nel caso di QField il mirino non resta tendenzialmente sempre centrato appunto al centro del vostro schermo dovete andare a spostare al di sotto eh la mappa scegliere quindi la posizione in questo caso si clicca semplicemente il pulsante verde e vi compare appunto il la vostra tabella il vostro form per l'inserimento dei dati come in QGIS una volta diciamo accettato diciamo salvato il il punto è ovviamente ancora modificabile una volta comunque chiusa la la modalità di editing ovviamente eh non è più possibile modificare il layer ma riattivando la modalità di editing non solo potete aggiungere nuovi punti ma potete ovviamente anche modificare eh quelli esistenti sia dal punto di vista geometrico nel senso che ovviamente potete andare a spostare proprio la geometria quindi la posizione del del punto delle linee dei poligoni ma potete anche ovviamente andare a modificare eh la componente alfanumerica quindi andare a modificare i valori che avete già inserito nella tabella ovviamente poi i punti possono cioè gli elementi possono anche essere eliminati diciamo che dal punto di vista dell'editing il principio di funzionamento è esattamente un po quello di QGIS quindi su questo eh chi ha già magari più familiarità con QGIS ehm di fatto il principio è esattamente lo stesso tra l'altro supporta anche le impostazioni di snap per cui eh definendo le impostazioni di snap lato QGIS le le avrete eh esattamente così eh come le avete impostate anche eh nel progetto QField quindi una volta terminato diciamo il nostro rilievo eh noi tendenzialmente torniamo in ufficio e quello che facciamo è riportare tutto quello che abbiamo registrato sul campo geometrie e informazioni associate nel nostro progetto QGIS principale nel nostro caso noi lavoriamo con un database PostGIS per cui come vi dicevo sul campo abbiamo impostato il progetto per l'editing offline quindi abbiamo un un geopackage con tutta eh come con una sorta di copia del del nostro database tornando in ufficio non facciamo altro che il passaggio inverso quindi da QField ritorniamo su QGIS come facciamo a fare questo passaggio sempre tramite il il plugin QField sync come vedevamo prima esiste un pacchetto per QField esiste ovviamente anche il pacchetto per QGIS ora non mi ricordo esattamente come si chiama l'opzione però diciamo è l'altro tool che abbiamo sul plugin semplicemente gli andiamo a dare eh diciamo la cartella che contiene il nostro progetto QField che dobbiamo portare dal device al nostro computer il plugin non funziona tantissimo se come ehm anzi direi che vi va proprio in crash forse io una volta ci ho provato e non l'ho mai più fatto eh vi conviene sempre prendere la cartella col vostro progetto QField e dal device e salvarvela sul pc perché se al plugin gli date direttamente il percorso al device eh almeno nella mia esperienza eh è facile che che vada proprio in crash quindi gli si dà semplicemente la cartella contenente il progetto QField su cui abbiamo lavorato sul campo e nel giro di insomma qualche qualche istante a seconda di insomma della quantità anche di dati che avete rilevato è facile che ci possa impiegare anche qualche minuto ehm lui praticamente ci riporta tutti i dati che abbiamo rilevato in quella giornata sul campo nelle tabelle post nelle nostre tabelle post gis corrispondenti quindi di fatto ci ritroviamo nel giro veramente di di poco il database assolutamente aggiornato con tutte le geometrie ma anche già con tutte le informazioni alfanumeriche poi ovviamente questo però è specifico proprio per questo tipo di di attività a noi è richiesta anche la rappresentazione delle condotte quindi poi di fatto andiamo invece a eh rappresentare manualmente la geometria lineare corrispondente alla condotta con le eh informazioni che invece abbiamo rilevato sul sul campo quindi vado un po' di considerazioni finali così poi lasciamo un insomma venti minuti un quarto d'ora le vostre domande eh sicuramente la tecnologia GNSS NRTK è quella che ci ha permesso un po' di ottenere no come si dice la miglior qualità prezzo nel senso che sicuramente abbiamo avuto il miglior rapporto fra precisioni ottenute e produttività del rilievo ehm l'integrazione di un ricevitore esterno ha fatto sì che comunque anche con Qfield si potessero ottenere buona una buona qualità del posizionamento e allo stesso tempo appunto la possibilità di raccogliere direttamente sul campo tutte le informazioni eh necessarie questo ovviamente ha ottimizzato notevolmente i tempi non solo dell'attività di rilievo sul campo ma anche del post processamento tenete conto che tendenzialmente in una mezza giornata di rilievo quindi quattro cinque ore si riescono a macinare anche una settantina di punti che probabilmente non sembrano neanche tanti ma considerando che ogni punto vuol dire intanto anche aprire il pozzetto ispezionarlo e raccogliere appunto tutte le informazioni ci è sembrato diciamo un ottimo un ottimo risultato e l'attività di processamento invece si è veramente ridotta abbastanza al minimo possibile eh in ci stiamo parlando di circa un'ora un'ora e mezzo ovviamente scritta seconda anche della complessità della della rete ehm appunto di di post processamento inteso però non solo come il passaggio appunto da QFIL da QGIS che quello come vi dicevo è questione veramente di pochi minuti ma di ehm invece disegno manuale rappresentazione del degli elementi lineari ovvero delle delle condotte lascerei ehm quindi spazio al insomma alla discussione alle vostre domande e intanto vi ehm anticipo già il prossimo appuntamento quello del quattro novembre sempre alle otto e trenta con la terza e ultima puntata di questa miniserie eh sulla costruzione di una stazione GNSS a basso costo lascio spazio a voi ovviamente apritevi pure il microfono sentitevi liberi di aprire il microfono e e sono qua per rispondere a domande curiosità Ciao Roberta mi senti? Sì sento ciao 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 Gianpaolo Di Biase Università di Bologna e una curiosità eh avete provato ad utilizzare se c'è la possibilità ad esempio un cloud? Cioè per fare il passaggio da QGIS a QField eccetera? No quello non non l'abbiamo non l'abbiamo testato effettivamente no Ah perché potrebbe essere una soluzione che immagino sia possibile e se funziona molto comoda per passare soprattutto magari all'interno di grandi progetti che durano più giorni invece di fare sempre questo giochino di spostare le cartelle potrebbe essere molto comodo utilizzare un Dropbox Allora sì quello quello effettivamente no non l'abbiamo non l'abbiamo testato ehm allora sicuramente con QField volendo eh questo diciamo questo passaggio uno se lo potrebbe anche risparmiare semplicemente decidendo di non fare editing offline ma fare direttamente editing online che per quanto ci riguarda ad esempio noi abbiamo tutti i dati appunto su un database PostGIS e avremo anche potuto fare appunto direttamente editing online e quindi evitare tutto questo tutto questo passaggio non abbiamo effettivamente provato su una piattaforma di cloud però sì effettivamente potrebbe essere interessante soprattutto mi viene da dire se magari chi fa il rilievo non è la stessa persona che poi fa tutto fa tutto il passaggio su QGIS ecco sì sì infatti me l'immaginavo proprio diciamo in questa visione un po' più vasta di più operatori potrebbe essere effettivamente una soluzione comoda sì anche quella magari quella di utilizzare la modalità online è sicuramente la cosa più avanzata però allo stesso tempo si magari si va a modificare direttamente il database principale che non sempre è una eh sì quello diciamo che allora noi abbiamo preferito evitare questa soluzione ma soprattutto per non essere poi sempre legati ovviamente a quel punto alla connessione internet nel senso che se poi becchi la zona in cui non non hai dati eh magari diventa più problematico però certo poi c'è sempre il rischio del fatto che a quel punto tu stai operando direttamente sul tuo database principale per cui ossetti molto bene diciamo i eh i permessi di editing e modifica oppure poi magari il rischio che anche involontariamente inizino o a inserirti cose errate oppure a ecco a eliminare qualcosa poi quello c'è sempre soprattutto se chi poi va sul campo magari non è un operatore espertissimo ecco di mondo GIS database e via dicendo sì 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 infatti sono pienamente d'accordo con te tra l'altro eh credo che ehm in un'opzione cloud ehm serva la la connessione diciamo solo quando si decide di aprire il progetto in campo e quando si decide di salvarlo quindi se se si mettono dei punti in delle zone non coperte a parte che la vedo un po' complicata perché a quel punto ci sarebbero dei problemi con il GNSS però va bene va bene grazie mille per la risposta e per il jailbreak grazie a te ciao Roberto ciao buongiorno Maurizio ciao sono Maurizio ehm una intanto complimenti per il bel lavoro congratulazioni ehm volevo chiedere eh due cose ehm allora intanto tu hai utilizzato il termine eh convertire il progetto quando andiamo utilizzare il plugin QSync no? ehm quindi eh volevo capire dico perché prima io ricordo che prima del plugin banalmente prendevamo la il progetto e lo copiavamo direttamente sul device mobile quindi di fatto dico non c'è nessuna convers- non c'era nessuna conversione con il plugin di fatto invece c'è una conversione del formato cioè no 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 convertire forse è è è un è un termine diciamo che rende l'idea però in questo caso non è non è forse il più appropriato effettivamente perché di fatto non non si non viene convertito nulla non so come dire nel senso che eh quello che crea il plugin QFieldSync poi di fatto è un punto QGS ovvero un file con la stessa estensione del progetto QGIS converte nel senso che soprattutto nel nostro caso quindi scegliendo ad esempio l'editing offline ehm o quantomeno alcune delle altre opzioni per dire rimuovi ehm o insomma queste insomma altre opzioni nelle varie configurazioni dei layer ti crea già una sorta di pacchettino quindi eh con il geopackage nel caso dell'editing offline e le tabelle già inserite nel progetto eh oppure appunto ti rimuove eventuali layer che non vuoi non vuoi importare diciamo che convertire cioè più che convertire ti prepara proprio un un pacchettino pronto per essere preso e spostato ehm chiaro chiaro e poi la seconda domanda che ti volevo fare era questa eh che in parte è stata un po' anticipata dal diciamo precedentemente dalla domanda che ti era stata fatta prima cioè se in campo dovessimo mandare più operatori eh come come gestire diciamo il la il trasferimento del progetto e penso 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 di essere stato chiaro no cioè dico eh rischiamo eventuali come dire sovrapposizione di dati eh conflitti eh come come non so se avete avuto esperienza in merito e come avete gestito la cosa allora no esperienza al momento no perché appunto lavoriamo con un solo operatore al momento e però eh no non credo grossi conflitti ora sinceramente sull'editing offline se devo proprio dirvi la verità eh non mi è chiarissimo il criterio con cui Qfield o meglio il plug in riesce a tra virgolette eh tra virgolette eh tracciare eh tracciare ciò che esisteva già da ciò che è stato aggiunto però io credo che sia ad esempio soprattutto nel caso nostro in cui abbiamo delle tabelle di di un database postgis probabilmente tramite chiave primaria però diciamo che non 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 credo che ci possano essere di fatto di fatto conflitti ecco eh è un'applicazione quindi tu pensi che potremmo trasferire l'intero progetto a più operatori e poi in fase di importazione eh quando ritorniamo in ufficio diciamo eh tu cur insomma il database viene aggiornato senza particolari difficoltà o forse sarebbe il caso magari di dividere il progetto in zone secondo insomma magari le zone di rilievo per evitare poi magari fare un merge dopo del progetto allora direi sull'editing online mi viene da dire che non ci dovrebbero essere problemi nel senso che credo che Qfield assolutamente eh venga utilizzato anche per appunto più operatori eh sull'editing offline eh sinceramente ti dico che dovrei 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 provare perché non non mi è mai capitato diciamo di importare ehm due diciamo due progetti di editing offline sullo stesso progetto QGIS eh non non ti so dare una risposta certa ma vabbè vedremo magari di fare delle prove e magari ci riconfrontiamo magari più enti esatto io fino ad ora sono andato fuori con un solo operatore francamente mi ponevo questo problema nel caso in cui ci dovesse essere necessità di implementare più squadre di rilievo e quindi come poter gestire eh diciamo la l'acquisizione dei dati la catalogazione dei dati senza poi andare a creare diciamo dei conflitti nel database certo o duplicati eh infatti infatti avremo modo magari di riconfrontarci su questa cosa anzi se se avrete esperienze di questo tipo volentieri perché come vi dicevo anche noi non è che eh Qfield lo utilizziamo eh da da tantissimo tempo oramai è un annetto buono però appunto anche noi per adesso ci siamo mantenuti sul singolo operatore ehm assolutamente se invece avete esperienze diverse volentierissimo condividiamole perché è interessante anche per noi ovviamente ok grazie grazie a voi verosimilmente sono di nuovo Gianpaolo mi intromettevo in questa discussione verosimilmente in maniera molto grezza eh si potrebbe anche semplicemente pensare di unire i vari layer cioè nel caso di di più operatori che battono punti dei tombini di più zone una volta che i progetti tornano in ufficio si fa l'unione di più layer e al limite si vede se c'è qualche sovrapposizione ma se uno ha diviso la zona difficilmente ci dovrebbe essere questa è una maniera proprio molto diciamo po ignorante di intervenire però sì no no però sicuramente cioè è quella che probabilmente ora come ora proverei ad adottare io ecco sì perché appunto non avendoci mai provato soprattutto adesso che siamo in fase avanzata del del lavoro potrebbe quella essere una buona soluzione senza temere magari appunto di fare pasticci poi sul sul database ah ecco ci Genna ci dice che è possibile operare offline eh senza sovrapposizione di dati basta usare la tipologia di ID prevista da QG se in formato UID ah ok quindi eh Genna se se hai il microfono vuoi intervenire tu hai già provato questa modalità con ehm diciamo con più operatori in contemporanea che lavorano sullo stesso progetto di fatto ah è senza microfono ok quindi eh provata e testata ah ottimo ottimo questo molto interessante quindi potremmo decisamente fare qualche test qualche test anche noi perfetto grazie mille grazie del del contributo altre domande curiosità se volete collegato con noi c'è anche il mio collega Lorenzo Benvenuto che si è occupato maggiormente di tutta la parte invece di ehm il ricevitore GNSS quindi anche come appunto come siamo riusciti in qualche modo a far digerire a Qfield un ricevitore esterno quindi se avete curiosità anche su quello ora il GeoBreak di oggi era più appunto incentrato su l'aspetto QGIS Qfield però ovviamente è online anche lui quindi se avete curiosità appunto più legate alla parte di ricevitore diciamo di rilievo proprio GNSS vi risponde lui perché non è propriamente il mio settore però comunque se avete curiosità c'è anche appunto anche su questo appunto siamo siamo qua per rispondervi ecco comunque su sempre su questo argomento direi che online cercando direi qualcosa sul nostro canale YouTube qualcosa forse sul canale di GFOS trovate anche altri interventi sempre su questo argomento quindi QGIS Qfield un po' il racconto della nostra esperienza un pochettino più estesi del GeoBreak che appunto è un momento un po' condensato in cui appunto affrontiamo anche ad esempio in maggior dettaglio tutta la parte di integrazione con un ricevitore esterno quindi insomma se cercate appunto direi o nel nostro canale o comunque abbiamo fatto uno degli appuntamenti estivi di GFOS proprio dedicato a questo argomento trovate sicuramente sicuramente maggiori informazioni e dettagli ok vi direi che se non ci sono altre domande vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo GeoBreak che sarà appunto il 4 novembre come vi dicevo terza e ultima parte di questa mini serie sulla costruzione di una stazione GNSS a basso costo se avete domande o simili avete comunque il mio contatto il mio indirizzo mail e ovviamente ci possiamo sentire scrivete e appunto anche solo appunto per condividere esperienze simili e se non siete già iscritti al nostro canale Telegram vi invito appunto a iscriversi a iscrivervi perché appunto non su questo canale non solo diamo ehm aggiornamenti e informazioni sui GeoBreak ma anche un po' su tutto il mondo GTER le nostre attività nei vari settori che insomma che copriamo quindi vi niente se non ci sono altre domande io vi ringrazio per essere insomma per aver partecipato al GeoBreak di oggi e niente vi diamo appuntamento al prossimo buona giornata e buon lavoro a tutti grazie